Il cielo si oscura e il colpo fa paura, ale San Carlo, ale, buonanotte, vincerai, non ti lasceremo mai. Forza San Carlo! Viva la Junior Tic Tacco! Viva la Junior Tic Tacco! Viva la Junior Tic Tacco! Forza Junior Tic Tacco! Ciao, sono Andrea, ho 13 anni, lui è mio fratello Matteo, lei è mia mamma Simona e lui è mio papà Claudio. Io fino al 2009 abitavo in Germania, poi mi sono trasferito qui a Milano. Mia mamma quando è venuta qui ha visto questo campo che era stato appena rifatto e dopo averne parlato con mio papà ha iscritto me e mio fratello in questa squadra di calcio. Mi sono trovato molto bene sia dal punto di vista calcistico ma soprattutto grazie ai miei compagni. Mi sono subito integrato a loro e sono stati molto gentili. I ragazzi del 2000 sono un gruppo di ragazzi e miei amici con il quale ho legato molto e ci incontriamo infatti spesso qui a giocare a calcio e a parlare insieme anche se siamo di scuole diverse. Ci chiamiamo così perché appunto siamo dell'anno 2000 e siamo l'anno più numerosa colpe che hanno legato di più. Tifo per il Milan ma sono comunque molto emozionato di giocare a San Siro e di stare a vedere Inter Parma con i miei amici. Grazie, grazie. Ciao Junior Team Cup! Forza Junior Team Cup!